Dal racconto della vita dell'ultimo minatore vivente dell'isola d'Elba fino a quello della figlia di un medico generoso vissuto nel secolo scorso che pagava le medicine per i pazienti. Sono le storie fuori dal comune straordinarie ad essere al centro del volume del giornalista scrittore Massimo Canino che con la propria barca ha percorso 500 miglia in circa 4 mesi di navigazione facendo tappa in 16 porti della Toscana alla ricerca di persone del posto che raccontassero il proprio vissuto. Frontemare ha ottenuto il patrocinio della regione toscana e il progetto editoriale è stato sostenuto da Banca Cambiano. Il libro appunto è dedicato proprio ai giovani perché imparino qualcosa da queste persone che proprio con la loro vita hanno dato degli esempi bellissimi di come si può vivere un'esistenza di rettitudine, moralità, taccamento al lavoro, amore per il prossimo, amore per la propria famiglia. Il libro ha anche una finalità benefica. Ho deciso di devolvere una parte dei proventi della vendita del libro alla fondazione Meyer. Banca Cambiano prosegue ad investire in cultura. Il volume è stato presentato nei locali dello storico Cinemastra restituito lo scorso anno alla città di Firenze proprio grazie ad un investimento da parte dell'istituto di credito. È stato un bel viaggio raccontato da Canino. È stata una bella ed è una bella iniziativa editoriale quindi per la Banca quando ci sono queste cose anche se non è l'area di riferimento territoriale della Banca però come si dice ci siamo e le facciamo volentieri.